Angelina Mango, la vincitrice dell'ultimo festival di Sanremo, sta bene? Questa è la domanda che molti si stanno ponendo dopo i recenti video pubblicati dalla cantante sul suo profilo TikTok. In particolare, un video condiviso tre giorni fa è diventato virale per l'apparente eccessiva magrezza della performer Ex Amici. Nei commenti sotto il post l'allarme è stato immediato. Angelina Mango, giovane talento della musica italiana, ha conquistato il pubblico con la sua voce e il suo talento. Tuttavia, negli ultimi video pubblicati su TikTok è apparsa dimagrita e visibilmente provata. In una clip in particolare, la cantante si prepara per il suo prossimo tour con un look che ha lasciato molti fan preoccupati. I commenti sotto il post della Mango sono stati per lo più allarmati, con molti fan che si chiedono cosa le sia successo e se sta bene. Alcuni utenti hanno addirittura faticato a riconoscerla, mentre altri hanno espresso preoccupazione per la sua salute. Alcuni fan hanno cercato di difendere la cantante, sottolineando la sua bellezza naturale e chiedendo di non giudicarla troppo duramente. Tuttavia, la preoccupazione per lo stato di salute di Angelina è palpabile tra i suoi sostenitori. È possibile che la magrezza della cantante sia dovuta allo stress del tour e ai ritmi di lavoro intensi, ma finché non sarà lei stessa a parlare della sua situazione, la cosa mi dà a fare è evitare di trarre conclusioni affrettate. Restiamo in anteriori sviluppi sulla situazione di Angelina.